buongiorno a tutti video 8k s20 ultra in 21 noni test autofocus modalità manuale non so cosa possa servire il 21 noni in 8k senza tv comunque con l'aggiornamento c'è piccolo zoom questi miei ombrelloni queste piante grasse crescono mamma mia nemmeno nei vasi entrano più piccola pausa mi sposto di sotto ok ok Grazie a tutti. Eccezionale. Grazie a tutti. Altra piccola pausa. Grazie a tutti. Saluto.